Oggi parliamo del bagatto, spesso indicato anche con il termine il mago. Questa è l'immagine che ne dà Jung nei suoi tarocchi. Jung vede nel bagatto l'inizio, colui che tiene tutti i simboli di fronte a sé. Il bagatto è un segno quindi di forza, di stabilità, di un sé presente al proprio inconscio, alla propria coscienza. Come vedete il bagatto ha nella mano destra una palla d'oro, nella sinistra un bastone, il cappello che ha forma di notto, la disposizione delle mani mostra a destra attività, a sinistra passività. Queste sono le parole chiave che Jung identifica per il mago. Ricordiamoci, come avevo già detto in un precedente video, che in Jung è fondamentale la distinzione tra destra e sinistra, definizione per la quale la destra rappresenta tutto ciò che è maschile, quindi tutto ciò che è atto concreto, attività, mentre la sinistra tutto ciò che è femminile, quindi passivo e ricettivo. Il fatto che il cappello sia a forma di otto è un chiaro richiamo al simbolo dell'infinito, che sta a sottolineare l'infinita possibilità davanti a sé del bagatto, le infinite potenzialità di manifestazione e di forza di volontà, quindi rappresenta l'infinito del principio attivo. Ecco, questa è l'immagine del bagatto del mago nei tarocchi marsigliesi utilizzati da Jodorowsky e come vedete sono presenti gli stessi elementi sul banco del mago, ossia i quattro semi degli arcani minori. Sempre nella mano destra è presente questa sfera circolare che rappresenta i denari. Nella mano sinistra il bastone, questo bastone che rappresenta appunto i bastoni insieme ai fiori. Sul tavolo vedete che ha un coltello che rappresenta le spade e poi una coppa che rappresenta appunto i cuori. Questo appunto sta ad indicare che il bagatto può operare, realizzare, creare lungo tutte le direzioni. Il progetto a cui si affaccia il bagatto è un progetto quindi che può riguardare qualsiasi ambito, l'ambito sentimentale, l'ambito intellettuale, l'ambito economico-finanziario o l'ambito prettamente professionale, proattivo e creativo. Quindi il bagatto ha la funzionalità di manifestazione. Egli è in grado di trasformare tutto ciò che vuole in realtà. Una realtà che riguarda, abbiamo detto, sia l'aspetto sentimentale, che l'aspetto finanziario, che l'aspetto professionale. Quindi il bagatto ha un progetto e lo vuole realizzare e ne ha le potenzialità, ne ha le facoltà. Il bagatto ha di fronte a sé tutti gli strumenti per fare tutto ciò che vuole. Egli sa come e cosa fare. Ovviamente l'ambito in cui si inserirà questo suo principio di creatività, lo si evincerà dalle carte successive. Se sarà appunto un ambito sentimentale, professionale, piuttosto che economico-finanziario. Dunque il mago rappresenta il grado 1. Il grado 1, ossia, quel grado che ha bisogno di lanciarsi, di muovere un primo passo verso la realtà. Il grado 1 permette di percorrere il primo chilometro, ad esempio. Il grado 1, che è l'inizio, è il potenziale, non è però ancora la realizzazione definitiva. L'arcano del mago rappresenta infatti un giovane, un principiante, colui che è pieno di potenzialità. Ripeto, simboleggiate dagli elementi presenti sul suo tavolo. Il bagatto, per terminare il suo percorso, ha ancora molta strada di fronte a sé. Quindi, il bagatto, quando esce in una stesa, non rappresenta la realizzazione dei propri progetti, desideri. Non rappresenta il compimento di un ciclo, come ad esempio può essere la carta del mondo. Ma rappresenta l'inizio, qualcuno che inizia un nuovo progetto, qualcuno che si dirige verso un nuovo percorso. Uno dei principi esoterici base è il dirigere l'energia dall'alto verso il basso. Ed è questo che fa il bagatto. Notate che, di fatti, la sua mano, quella che tiene il bastone, la mano sinistra, è una mano rivolta verso l'alto. Come se riuscisse a incanalare l'energia dall'alto verso il basso. Da tutto ciò che è divino a tutto ciò che è tremendamente concreto e umano. Dunque, per il mago tutto è possibile. Gli elementi che ha di fronte a sé sul suo tavolo gli permettono di utilizzare a piacere la sua potenzialità, la sua creatività, di mettere in opera concreta e empirica quelle che sono le sue aspirazioni, i suoi desideri, la sua immaginazione. E lo fa con tenacia, con potenza psichica, con forza e soprattutto con intelligenza. Una delle caratteristiche principali del bagatto è proprio l'intelligenza, l'abilità, l'astuzia, che ovviamente, in un'accezione negativa, può divenire capacità di imbrogliare, di manipolare, capacità di raggirare le persone. Inoltre, possiamo notare che il mago è un androgino, quindi può rappresentare una figura maschile, ma può anche rappresentare una figura femminile. Il mago non ha necessariamente una connotazione maschile o femminile. Quando esce in una stesa può rappresentare sia un giovane che una giovane che agisce seguendo appunto il proprio principio attivo, la propria creatività, la propria intelligenza e forza di volontà. Quindi dunque, a prescindere dal sesso che ha il bagatto, che abbiamo detto può essere sia maschile che femminile, egli ha comunque una profonda e impagabile destrezza. Ha la bravura e la capacità di organizzare la realtà secondo la propria intelligenza, una capacità che è inesauribile. E qui torniamo al discorso del cappello, che ha forma di infinito, come appunto infinite possibilità. Come fa molto intelligentemente notare Jodorowsky, il tavolo ha tre gambe. La quarta gamba evidentemente è al di fuori della carta, ma la presenza delle tre gambe e non quattro, come invece si vedrà in altri arcani, soprattutto negli arcani minori, può rappresentare il fatto che il mago sia la fase iniziale, non una stabilità già ottenuta, come abbiamo detto prima. Quindi è ancora nella fase della potenzialità, ma non ha ancora realizzato la solidità dell'intero progetto. Quindi le gambe non sono ancora quattro per mantenere stabile il tavolo, per renderlo un solido appoggio, ma sono tre. Inoltre, se ben notate, i dadi sul tavolo sono tre, di cui sono visibili tre facce, con tre numeri, uno, due e quattro. Sommando questi numeri, si ha il numero sette. Per tre, perché i dadi sono tre, abbiamo ventuno, che è il valore numerico più elevato degli arcani maggiori. Quindi nuovamente si potrebbe dire che il mago ha a disposizione l'intero percorso dei tarocchi per arrivare alla sua realizzazione totale, per arrivare a quella stabilità che da tre gambe porterebbe il tavolo ad averne quattro. Inoltre, sul tavolo è presente in arancione, con una testa piccola e gialla, un serpente, che solitamente rappresenta appunto la forza sessuale che il bagatto è in grado di controllare. Nel bagatto è molto forte l'importanza del pensiero, dell'intelligenza, dell'agire in maniera, sì, concreta, ma priva di impulsi sfrenati. Ecco perché anche l'impulso carnale viene controllato dal bagatto. Il mentale ha una grossa potenza nel mago, il carnale decisamente no. Inoltre, questo otto che rappresenta il suo cappello può anche riportarci alla mente l'ottavo arcano maggiore, cioè la giustizia, quindi l'importanza di agire secondo delle regole eque, di equilibrio. Il numero otto ritorna anche sulla sua stessa chioma. Se notate, ha dei piccoli cerchi che rappresenterebbero sicuramente dei boccoli, dei cerchi arancioni e notate che sono proprio otto all'interno della sua capigliatura gialla. Abbiamo detto che il giallo rappresenta appunto tutto ciò che è l'intelligenza, tutto ciò che è la potenza del mentale e se notate, di giallo abbiamo anche le scarpe che poggiano sulla terra. Quindi, è come se la sua intelligenza permeasse tutta la sua persona dall'alto verso il basso, proprio come dicevamo all'inizio di questo video, per cui il bagatto è in grado di dirigere l'energia dall'alto verso il basso, portando a compimento i suoi pensieri, riuscendo a concretizzarli dalla testa alla materia, alla terra che è presente sotto i suoi piedi. La sua intelligenza è in grado di plasmare tutto ciò che è materia. della potenza del mentale viene inoltre ribadita dalla doppia cintura gialla sull'abito del bagatto, sottolineando in maniera davvero importante che egli è in grado di esercitare una fortissima volontà dell'intelletto sulla propria animalità, sulla propria carne. Dunque, in una lettura, in una stesa, il mago che cosa indica? Indica un inizio. Indica il ragionamento molto rapido supportato da talento e astuzia. Indica che rimane soltanto da agire concretamente e poi il gioco è fatto. Il mago non ha effettivamente un'età perché comunque sì, spesso viene indicato nei tarocchi come un personaggio giovanile però si può avere anche 40, 50, 60 anni e avere comunque una progettualità da realizzare. Quindi, in questo caso, il mago rappresenta non tanto un personaggio giovane e maschile ma abbiamo detto un individuo che a prescindere dal sesso e dall'età vuole rendere qualcosa possibile. Vuole cominciare un qualcosa senza che nulla gli si opponga. È un individuo ispirato, è un individuo che ha una grande forza e una grande carica per poter iniziare una nuova strada. Egli è un iniziato. Il mago vive nel presente. Qualsiasi sia l'azione che egli intenda intraprendere e ora ormai di farla. È giunta l'ora. Egli non vuole più aspettare. Si sbarazza di tutti gli inutili fardelli, si sbarazza dei residui del passato e anche del timore del futuro. Egli vive della propria energia filtrata dalla propria intelligenza e dalla propria coscienza e di conseguenza vive profondamente nel presente, nella propria progettualità. È un individuo assolutamente consapevole di tutto ciò che è e di tutto ciò che ha. Egli è cosciente di tutti gli spazi, di tutta la materia, è cosciente di se stesso, sa che ora può trasformare tutto ciò che ha di fronte a sé in un'opera. Egli ha di fronte a sé ma rappresenta anche egli stesso la luce della coscienza che lo rende vivo. Il bagatto dunque è fedele a se stesso, alla propria intelligenza, è fedele ai propri progetti. Per quanto riguarda l'analisi dei colori presenti in questo tarocco vediamo che sono fortemente presenti il verde, il rosso, il giallo, il blu e anche il rosa carne. Abbiamo visto che il giallo ovviamente ha il ruolo maggiore. Il giallo abbiamo detto che rappresenta l'intelligenza attiva, la coscienza, la lucidità che però nella sua accezione negativa può anche indicare uno spirito un po' troppo arido, uno spirito senza particolari emozioni, votato unicamente a ottenere quello che ha in mente. Abbiamo detto che in effetti il bagatto nella sua accezione negativa può anche essere un imbroglione, un manipolatore, un millantatore, colui che effettivamente bada solo ai propri affari. Inoltre abbiamo visto che è presente anche il rosso. Se notate il rosso è contrapposto nel suo abito al blu dove il blu rappresenta diciamo le sfere celesti, rappresenta tutto ciò che è divino, tutto ciò che è alto, mentre il rosso rappresenta il regno animale, il regno carnale, tutto ciò che è basso. Quindi egli come abbiamo già detto riesce a riunire grazie alla propria intelligenza data dalla doppia cintura gialla che tiene stretti le due parti del suo abito blu e rosso grazie a questa intelligenza egli quindi riesce a dirigere l'energia dall'alto verso il basso abbiamo detto uno dei principi esoterici cardine inoltre se notate il rosa carne dove è presente che rappresenta appunto l'umanità il piacere carnale tutto ciò che è materialismo sul suolo suolo che viene calpestato dai piedi e quindi dalle scarpe gialle del bagatto quindi nuovamente la forza mentale che riesce a domare a tenere ferma ok a dare forma ma una forma che lui vuole dare a tutto ciò che appunto è piacere a tutto ciò che è carnalità il verde chiaramente abbiamo detto che rappresenta la natura unita alle forze terrestri questo in particolare il verde scuro per quanto riguarda invece il verde più chiaro è la natura unita alle forze celesti notate che il verde scuro è presente sulle gambe del bagatto quindi verso il basso mentre il verde chiaro è presente sul cappello quindi verso l'alto che guarda alle sfere celesti che guarda al cielo da notare anche che rosa carne è proprio il tavolo del bagatto su cui egli ha tutti i suoi strumenti che gli permettono di realizzare la sua grande opera per plasmare quella che è la materia quelle che vedete sono le parole chiave identificate da Iodorowsky per quanto riguarda appunto il mago ossia astuzia iniziazione l'inizio il bisogno di aiuto inteso come aiuto dato dalle forze celesti quindi un aiuto dall'alto per plasmare il basso abilità giovinezza però una giovinezza d'animo non inteso in senso necessariamente anagrafico potenzialità realizzazione discepolo abbiamo detto che il mago è l'iniziato la malizia inteso un po' quel senso di furbizia che ha la loquacità ovviamente anche il talento la capacità di parlare di esprimersi lo rende anche appunto un individuo capace di manipolare gli altri di plasmare la realtà a suo favore quindi può essere anche un imbroglione e lo abbiamo sempre detto nell'accezione negativa per quanto riguarda alcune interpretazioni tradizionali di questa carta nelle stese abbiamo l'inizio il prestigiatore il truffatore nell'accezione negativa il giocatore c'è qualcosa di nascosto sotto il tavolo ovviamente il bagatto non mostra tutte le arti del mestiere nuova impresa nuovi studi rinnovamento professionale inizio di una relazione abbiamo detto che il bagatto rappresenta l'inizio in qualsiasi ambito esattamente come i quattro segni rappresentati sul tavolo ragazzo o ragazza mascolina proprio perché come abbiamo detto non ha necessariamente sesso è un individuo androgino principiante astuzia abilità arte di convincere lo abbiamo detto la loquacità talenti molteplici si ha a disposizione tutto il necessario per agire bisogno di aiuto di una guida lo abbiamo detto prima volere osare potere tacere scelta che occorre fare poiché abbiamo detto che il bagatto ha l'intero percorso dei tarocchi davanti a sé per poter realizzare appieno tutta la propria opera di conseguenza le scelte più importanti verranno fatte man mano ad opera già avviata esitazione molteplicità dei potenziali animus del consultante uomo donna abbiamo detto che non ha un'indicazione necessaria di genere ma è un individuo androgino animus proprio perché è tutto ciò che egli ha dentro è la sua progettualità che magari non sia ancora del tutto concretizzata inizio della ricerca della saggezza iniziato mago spiritualizzazione della materia proprio perché abbiamo detto che egli plasma la materia partendo dalla propria intelligenza e dalla propria forza psichica come abbiamo fatto l'altra volta per il matto la stessa cosa faremo anche per il mago vi farò vedere nei principali mazzi da me utilizzati come viene raffigurata questa questa carta partiamo dai tarocchi dell'opposizione tra i miei preferiti vedete che nella accezione positiva il mago ha come a solito la bacchetta che rivolge verso l'alto mentre nella accezione negativa vedete che la bacchetta è rivolta verso il basso nella accezione positiva abbiamo la presenza di una coppa mentre nella accezione negativa la coppa è rovesciata con anche il contenuto da notare che nell'accezione positiva non c'è un grosso riferimento a tutto ciò che è il denaro mentre c'è per quanto riguarda l'accezione negativa questo per stare ad indicare che l'eccessiva proattività nei confronti di tutto ciò che è materiale quindi il denaro è comunque un attaccamento eccessivo alla materia che di fatto non porta a nulla di buono mentre l'attaccamento a tutto ciò che è emotivo e sentimentale viene visto in maniera molto più positiva da notare la lama la lama delle spade di questa spada che in questo momento cioè nella accezione positiva viene vista come conficcata nel tavolo del bagatto quindi come non capace di offendere di fare del male mentre in questo caso viene vista come addirittura rovinata distorta come se in qualche modo avesse già colpito fino addirittura a rompersi a storci a rovinarsi secondo me è una rappresentazione veramente intelligente della carta del mago un'altra cosa da notare è notate la bacchetta nell'accezione negativa in questa atmosfera assolutamente oscura e arida vedete che qui la natura non è assolutamente rigogliosa mentre invece qui assolutamente sì dicevo la bacchetta è rivolta verso guardate il dado è come se il mago nella sua accezione negativa puntasse di più su quella che è la fortuna la sorte piuttosto che sulle sue reali capacità mentre nella accezione positiva sappiamo che il mago ha nelle caratteristiche la fiducia in se stesso e nelle proprie capacità tarocchi della luce bellissimi vedete il mago rappresentato da questo individuo anche qui androgeno non si capisce non si riesce a dare una connotazione se maschile o femminile guardate il simbolo dell'infinito esattamente come nei tarocchi di Marsiglia e in quelli iunghiani dove il cappello lì era disegnato direttamente a forma di otto qui viene invece disegnato su questo cappuccio di questa felpa ma anche perché questi tarocchi hanno una connotazione iconografica sicuramente molto più moderna e che rappresenta appunto abbiamo detto le infinite possibilità creative del matto guardate da la forza dalle sue stesse mani che plasma la materia su cui lui è poggiato quello che abbiamo detto sino ad ora ecco qua il viceversa tarot di nuovo ritorna l'infinito sul capo del bagatto anche qui non c'è un cappello ma la valenza è identica il cielo di nuovo una stella cometa cielo stellato quindi il potere dall'alto di nuovo la mano rivolta verso l'alto quest'altra che indica il basso il potere che va dall'alto verso il basso e qui trovate di nuovo sul suo banco tutti i simboli coppe denari bastoni e questa spada lunghissima girando di nuovo più o meno stessa ambientazione l'infinito la mano rivolta verso le sfere celesti l'altra che indica molto più chiaramente forse si vede molto più chiaramente rispetto che qua perché può essere confuso dai fiori vedete il dito che indica il basso dall'alto verso il basso il mio potere è questo di plasmare la materia e tutto ciò che voglio attraverso la mia capacità di passare dall'intelligenza alla operatività pratica negli african american tarot i miei preferiti lo sapete ormai eccolo qui il bagatto nuovo questo braccio alzato l'altro rivolto verso il basso tutti gli elementi i denari quindi gli ori le pietre preziose coppe i bastoni e le lame delle spade per quanto riguarda i pagan tarot eccoli qui il percorso della bellissima wicca il mago indicato con questa splendida ragazza anche in questo caso con un braccio alzato verso il cielo la luna che illumina in questo caso qui c'era la stella cometa qui c'è la luna di nuovo verso che cosa una maggiore capacità una sapienza vedete questo libro che è aperto la wicca trae le sue conoscenze attraverso questo percorso che viene fatto nuovamente dall'alto verso il basso conoscenza che le permette di iniziare il suo viaggio di nuovo con la presenza dei simboli i denari le spade coppe bastoni quindi abbiamo tutto anche qua per quanto riguarda invece i gay tarot anche questi tra i miei preferiti vedete che il mago è un vero e proprio mago tipo i prestigiatori televisivi vedete che il mago anche qui ha questo enorme cilindro questo cappello dal quale può uscire di tutto il bastone guardate l'intelligente rappresentazione dei semi coppe denari questa spada rappresentante appunto le spade e il bastone e il mago che è pronto a dare sfoggio delle proprie abilità con questa enorme luminosità che rappresenta la sua creatività la sua intelligenza è anche rappresentato in maniera un po' più furbetta un po' più astuta rispetto forse agli altri maghi no? in questo caso qui viene identificato con questa espressione un po' maliziosetta di chi si sta preparando a far uscire qualcosa di nuovo dal suo cilindro esattamente come se notate negli african e american tarot qualcosa che nasce direttamente dai piedi del mago no? perché questo ragazzo sembra avere i piedi all'interno delle radici dell'albero anzi sembra farne completamente parte proprio perché il mago dà sempre vita a un qualcosa origina dalla sua creatività sempre un qualcosa qui in questo caso dal cilindro in questo caso proprio dalla sua eterna e infinita capacità di dare vita di creare delle nuove radici per un nuovo progetto di creare